a me la parola militante per esempio non è che mi piaccia molto perché militare non mi piace però non ce n'è un'altra adeguata a volte dico cosa potrei essere potrei essere partigiana della memoria non lo so io preferisco la parola impegno in generale questo è il mio impegno però se poi mi dicono di militanza d con chi ho militanza perché non ho trovato ancora una parola un'altra parola però se tutti dicono che va bene accetto e l'innessi ma militanza sempre ti riporta la parola per me militare armi vanno assieme le armi non mi piacciono a me non piace non mi sono mai piaciuti anche i ballocchi dei bambini che sono armi non mi piacciono